e benvenuti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono Andrea Rosano ragazzi e oggi siamo in un nuovissimo video di fortnite insieme al signor giovi che si sta esibendo effettivamente in una gara di moda 5.000 punti mi mancano 425 e giù invece in a 1 è scorso no no io devo arrivare a 6.000 5.000 punti ciao scappa 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 non scappa te ne scappa te ne ecco vai da quel lato c'è no adesso giuro che se mi insegue pur di non ammazzare i boss impazzesco prego datemi un fottuto marano e anche questo però va molto bene pro prenditi questo non è saputo prenditi il rampino cos'è almeno mentre mi hanno roberto e ti prego ma l'altro ci sento un ciclo da dietro prenditi il rampino vieni qua in casa a prenderti il rampino non fa rumore però madonna 58 scappa te ne scappa te ne scappa scappa e via e a me se mi sono a morire io la odio scappa te ne provo scappa te ne è va ben due c'è se ti prendo ti fanno cadere vabbè allora voglio anche solo da pc sennò la corona 100 da pc si vabbè adesso te mi dici ma cosa hai capito che ero qua dai nè non prendermi per il culo è sul mondo ma guarda ma guarda ma guarda ma li vedi ma vabbè ma se sono altista famono parole guarda questo caso ci voglio prendere la scheda ma guarda lo guarda lo godo foto bimbo minchi da merda minchi ti giuro deve stanno quando non lo so se va bene va bene va bene va bene e va bene o attenzione 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 borsa fai o dopo ragazzino vi metto tutte le volte che mi ho inseguito non è finito un cazzo cazzo l'ho preso il rift cazzo l'ho preso il rift cazzo l'ho preso il rift ma no visto mi sei no vabbè dai no vabbè va bene io fingo dire so fair fai loro oggi esperessi saranno muori ma no 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 vabbè no vabbè se non sono la prossima mazzipante a questo non lo devo fare ma devo fare ok a di lato come lo faccio muoio no no attraverso l'albero avete rotto veramente l'amico no vabbè non ci credo ma no ma un altro tipo 9 9 dai è incredibile raga raga l'uva b offriti mazz no i due piccolari scemo che non sei altro non devi capire che c'è qualcosa c'è qua da me vini 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 dove sta salendo ecco qua e l'accelo ci lasciano scelto occhi dietro ecco fa così ciascola storta non è più qua ecco ecco e vabbè ben di mettersi questo pillo guarda lì e ti trova stavanti in mani stavate sparato vini qua occhio ho fatto cadere mi ha fatto cadere mi ha fatto cadere top 5 posso guardare il cazzo a me non stanno facendo cadere no ma un altro tipo un altro tipo appena una parola tutti coppia uno solo arrivata giovi e l'ho visto cazzo da me e vabbè vabbè lo sapevo lo sapevo che tanto ci sto cazzo non mi finite ma figa con l'impulse col maranzo vabbè 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 abbiamo fatto il mondo 11 kill da pc ma qualcos'altro ancora no è se ci vuole un po' tantissimo tipo eh vabbè ovviamente col maranzo fa tutto vabbè ragazzi direi top aveva fatto un casino di punti detto questo da me giovi tutto noi ci vediamo nel secondo episodio ciao